Purtroppo a Santa Giusta da alcuni giorni si stanno verificando dei fatti incresciosi. La polizia locale del comune di Oristano non consente a molti cittadini di Santa Giusta di recarsi nelle aree commerciali adiecenti al nostro comune per poter fare la spesa. Questo a mio giudizio non è rispettoso di quanto sostiene il DPCM. I diversi tipi CM è anche la circolare del Ministero degli Interni che è stata resa nota. I cittadini che si recano per questioni di urgenza o di necessità a fare spesa devono adottare le stesse prescrizioni sia che lo facciano all'interno del proprio comune sia che vadano in altri comuni. Devono presentare un'autocertificazione in cui dichiarano il motivo della propria necessità e quindi da nessuna parte sta scritto nei DPCM promulgati dal Presidente del Consiglio dei Ministri che l'acquisizione e l'acquisto dei beni di prima necessità alimentari debbano essere obbligatoriamente fatti nel proprio comune di residenza. Per questo motivo non trovando soluzioni istituzionali o di altro genere per una soluzione di buonsenso di questo caso ieri la Giunta Comunale ha dato incarico all'ufficio amministrativo di affidare l'incarico ad un legale che possa sostenere queste giuste motivazioni a tutela dei cittadini di Santa Giusta ai quali non gli viene concesso di acquistare. Questo crea problemi di emergenza sociale perché i cittadini hanno necessità di fare i propri acquisti negli hard discount che gli consente di acquistare prodotti alimentari a basso costo per arrivare così a fine mese con gli alimenti necessari e quindi ritengo che sia veramente lesivo nei confronti dei cittadini di Santa Giusta dove oltretutto il malumore cresce e si paventano problemi di ordine pubblico. Quindi a breve l'avvocato incaricato produrrà una difida perché si vengono ripristinate le condizioni previste dai DPCM e nel caso, neanche in questo caso, si riuscisse a ottenere ciò che si chiede l'ultima spiaggia sarebbe quella della denuncia che ahimè vorrei evitare in tutti i casi ma la tutela dei miei concittadini sicuramente ha un valore più alto su tutto.